Si appressa ad essere riqualificata la rotatoria di Onnina con annessa fontana ornamentale Lavela attraverso il sistema delle sponsorizzazioni incentivato dal sindaco Salvo Poiese per riqualificare spazi urbani della città di Catania senza gravare sul bilancio comunale affidando l'adozione degli spazi a soggetti imprenditoriali che vogliono contribuire a migliorare il decoro urbano curandone anche la manutenzione. La superficie complessiva del sito interessato è di circa 3.250 metri quadrati di verde dei quali 2.950 riguardano la rotatoria e 300 lo spartitraffico che costituiscono la coda della circomballazione con lo sbocco a mare. Il valore economico della sponsorizzazione è stimato in circa 75.000 euro e altrettanto per le manutenzioni che sgraveranno il bilancio comunale di una somma complessiva di circa 150.000 euro eseguendo un dettagliato progetto di riqualificazione 15 anni dopo i lavori di rifacimento della circomballazione con l'abbattimento del pericoloso cavalcavia su piazza Mancini Battaglia e lo svingola tra i livelli con sbocco su Viale Artale a Lagona.